...la punizione sulla palla al 2, ok? Va bene? Per questo magico gruppo di pittura! Di pittura! Di pittura! Dai ragazzi, dai! Ce lo tieni tu? No, te lo tieni. Le borrocce? Già stanno fuori. Sì, sì, già stanno fuori. Ciccolini, dentro la borsa dei farmaci c'è la fascia di capitano dentro Natasca, così lo diamo. Grazie, grazie.